ci siamo partiamo ora trasmetti in diretta con azione trasmetti in diretta come ci siamo ragazzi buongiorno a tutti ritorno a oggi andiamo a fare i nostri cinque minuti più lunghi di solito perché andremo a lavorare proprio con un fluid che è il calistenico total body calistenico per le donne più che altro ma vi posso garantire anche i uomini possono veramente beneficiare di questo allenamento e di tutto questo è gratis food spring questo è un allenamento sponsorizzato e io amo energy aminos perché rimini se stanco devi affrontare l'ottavo lezione energy aminos ti danno quell'energia che ti serve proprio pronto uso per partire alla grande e questo mi piace tantissimo l'altra cosa è amminoacidi amminoacidi che proteggono la muscolatura che è importante che man mano quando diventiamo più grandi cominciamo a vedere che la pasta dei muscoli comincia a cambiare diventa un po più diciamo svuotato questo si chiama sarcopenia e grazie a energy aminos possiamo anche avere la possibilità proprio di proteggere quelli allora scendiamo giù ragazzi andiamo a fare il nostro allenamento fammi vedere una cosa cerco 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 faccio faccio e partiamo alle grande proprio per cominciare e partire tutti quanti cominciamo in una posizione di partenza ok diamo un child pose vuol dire le anche che vanno indietro verso le anche e faccio una piccola pressione con la parma delle mani che mi aiuta a sentire un minimo di allungamento sulle braccia proprio sto spingendo indietro provando di toccare le anche sui paloni dammi ancora una spinta dietro perché quello che serve quando cominciamo a fare il nostro lavoro di calesternico sono i polsi spalle e gomiti ovviamente le anche però quello che va a surreggere quasi la gran parte del nostro allenamento sono i polsi spalle giù petto scende lasciamo tutti i pensieri fuori dal nostro tappeto per favore solevo sulle polpastrelli spingo contro polpastrelli spalle giù petto giù e vi farò vedere delle diciamo in transazioni da principiante fino ad arrivare un po più avanzato spingo in su ok chiude le ginocchia e incrociamo le dita dalle mani come se stessimo facendo preghiera e cominciamo a girare le mani in entrambi i lati proprio per riscaldare queste polsi la prima volta che noi cominciamo a fare il fluido calesternico io dico affemminile perché affemminile allora se avete mai visto uomini che fanno calesternico gli uomini fanno queste prese sulle sbarre fanno la bandiera fanno le prese prendiamo la mano per favore portiamo indietro diciamo le dita della mano sinistra io chiamo la parte del corpo che uso quando faccio fluido perché sono perpendicolari a voi così questa mano sinistra mano destra non lavoro a specchio quando faccio fluido ok allora calesternico maschile e innanzitutto ci devi evolvere per arrivare a fare quelle cose devi potenziare le spalle devi diciamo veramente lavorare sulle braccia ma anche riscaldare i tendini questa è l'altra cosa facciamo stelline per favore così questo fluido calesternico è un percursore di quello calesternico più difficile ecco perché l'ho fatto perché le uomini sono fatte a forma di V grandi spalle poco anche gambe magari un po' più leggeri la donna è fatta a forma di A meno spalle meno potenza sulla parte superiore del corpo e le anche le cose sono più pesante questo vuol dire che la donna mi comenta sentito a provare di fare calesternico troppo velocemente si infiamma e si mette neanche tentare ecco di cosa si tratta fluido è un calesternico alla portata di tutti e è un passaggio anche un ponte che ti porta verso le discipline più intensi mani altezza delle nostre diciamo ginocchia e io faccio una pressione verso basso e noterete che sollevo le ginocchia è molto molto piccolo pressione verso basso e due ed uno e scendo giù ok ovviamente convolgo anche l'abdome l'abdome è coinvolta spalle mani ginocchia che sollevano adesso proviamo di sollevare di più le ginocchia sollevo di più e scendo respiro sollevo di più siamo sempre in fase di fatto di riscaldamento sollevo di più e scendo di nuovo divarico le ginocchia portali anche verso i caloni scendo di busto e questa volta veniamo davanti e facciamo soltanto una cosa vedi che porto peso su i polsi peso sui polsi ma non sto ancora scendendo con le braccia allora se ci sei la principiante puoi rimanere in questa posizione non devi scendere giù ma se vuoi cominciare scendo poco e torno indietro intermedio sarebbe qua gomiti stretti e torno indietro così principiante porta soltanto peso sulle mani ok intermedio porta i gomiti a metà strada e poi il nostro avanzato starebbe fino a terra e torno indietro lo facciamo ognuno al livello che si sente due torno indietro e andiamo in quadruttoria ok inspiro allontanando il pavimento inspiro guarda su espiro inspiro su espiro inspiro in su ok mettiamo il peso su la mano destra stendiamo le gambe sinistre dietro di noi e cominciamo a fare una posizione fino ad arrivare in side plank la gamba sinistra è stesa il punto è frontale ginocchio appunto sono frontali con il vostro schermo braccio destra viene su e andiamo sopra l'orecchio ok sinistro va sopra l'orecchio se questo gli dà fastidio sulla spalla vai tocchi la spalla e altezza degli occhi stendi quel braccio finché non senti fastidio ok proprio su la spalla perché è molto importante piega la gamba porta la mano indietro prima cosa proviamo di chiudere il stallone contro il gluteo ok poi proviamo di portare il ginocchio dietro di voi per piccola torsione torni frontale apri la gamba e schiacci sulla spalla ok proprio per sentire l'apertura per quattro per tre per due chiudo di nuovo stendo di nuovo braccio che piano 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 viene sopra l'orecchio tra tengo per tre per due per uno scendo verso l'anca scendo verso il pavimento adesso sono con la gamba e anche parallele con la terra e comincio a fare piccole pulsazioni in su in otto in sette in sei in cinque ultima quattro ultima tre ultima due occhio punto i piedi vengono avanti scendo e torno su di nuovo scendo torno su ovviamente posso anche fare solo questo se troppo per la mia braccia è ultima scendo torno su scendo con la gamba facciamo la stessa cosa dall'altra parte apriamo troviamo la mano sotto la spalla sinistra stendo la gamba destra su con il braccio sinistra il braccio destro o di fronte gli occhi o altrimenti direttamente sopra l'orecchio ok trattengo qua tutta in linea dominali tesi senti la stabilità del movimento poi porti la gamba indietro la prima cosa che provi di toccare il talone sul gluteo cado se vi guardo così mi devo tenere il mio sguardo lontano da voi ok e comincio a portare la gamba indietro ok ovviamente un po' instabile stabilizziamoci con il braccio con gli abdominali stendo poi apro la gamba trattengo la spalla per quattro per tre per due poi lascio la gamba allungo il braccio trattengo tutto poi la mano destra va verso il fianco abbasso sempre lavorando senza darci fastidio su ok proprio su le spalle o su qualsiasi giuntura sempre in una sorta di ricerca di trovare il giusto movimento per noi cuore con il gluteo per quattro per tre per due punto il dito e vengo quattro spingo su e tre spingo su e due spingo su questo sarà l'ultimo uno torno su gambe giù pieghe le gambe e torno indietro mettiamo la pedale qua dobbiamo riscaldarci bene ok i taloni sono indietro il dito medio del piede così non vedete il tallone sollevate il tallone spingi la pancia contro le vostre cosce accorci la presa se necessario e proprio spingi contro il pavimento con le braccia quindi lascio il collo poi cominciamo a stendere quei taloni giù 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 stendi 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 pancia 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 ok dopodichè pieghe le gambe e fate due tre passi per arrivare dietro le vostre piedi la prima posizione che da qui che vogliamo fare è stendere la schiena più possibile di fronte a noi respiro diventa pesante 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 testa pesante spalle pesante collo lungo senti come ti stai allungando poi spingo su il tallone e vengo completamente su addominali tesi scendo centrale torno su scendo di nuovo giù le mani vanno dietro di noi ok allora ragazzi principianti per scendere mettono giù le ginocchia e possono anche rimanere qua intermedio scende così gomiti stretti o altrimenti avanzato scende così ok e noi in fluid facciamo tre per tre che vuol dire tre due uno a scendere quando vado un up dog la trattengo allargando le mie clavicole guardando in su non andare poco indietro con la testa non sentire dolore sulla testa inspiro porto le gambe indietro talone giù sollevo la destra per favore e mi porto la destra proprio centrale per favore e l'appoggio di fronte a voi abbassando l'altra gamba qui le ante si aprono le braccia vanno su dietro la testa ovviamente provando di dare un minimo di back bend ok senza però esagerare il controllo non voglio che sentite problemi nella zona centrale quindi vado finché il mio corpo mi permette di andare quando apro le gambe e apro le braccia apro anche le gambe e scendo in half split drapeggio sulla gambe stiamo cercando potenza equilibrio ed apertura su inspiro espiro allungo mi inspiro vengo su questa è l'ultima volta espiro allungo giù questa volta vi invito di ritornare in avanti mano sinistra giù piego la gamba sinistra e la mano destra passa indietro andiamo a cercare di allungare quadricipire sinistra quadricipire sinistra rilasso tutto spalla collo e sguardo e più porto il busto in avanti più spazio avrò anche con la coscia non permettere il ginocchio destro di divaricare o di allargare lascio quella gamba mi stacco la sinistra ok dopodiché prendi il piede destro lo apri lateralmente adesso apro sul lato mignolo del corpo ok proprio apri il ginocchio destro verso fuori e sento un'apertura nell'anca stendendo anche la gamba sinistra con più energia che ho lo sento anche sulla gamba e senti le spalle abbassate con il lungo poi questa volta stacco la gamba e l'attacco sul tricipide destro prima a tornare in plank in fluid noi facciamo tre per tre ginocchio giù ginocchio su dipende da te 3, 2, 1, 3, 2, 1, se sentite le braccia tremare è normale come in giù inspiro su e trattengo le cosci sono staccate da terra piego, torno indietro inspiro taloni scendono le mani ti spingono indietro la pancia contro quella coscia bravi 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 per aver sentito l'allungamento inspiro sinistra alza 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 no porta ginocchio in avanti in avanti in avanti in avanti in avanti in avanti low lunge scendo braccia salgano in un respiro inspiro espiro allungo inspiro spiro allungo lentamente inspiro spiro spiro allungo trapeggio sulla mia gamba scendo vengo in avanti appoggiando la mano destra a terra super il ginocchio destro vado a prendere la gamba provando a portare sempre col tallone verso il gluteo ok e poi quando porti il busto in avanti troverai più spazio per la gamba ancora uno lascia la gamba stendo la gamba trattengo e comincio ad allargare il piede lateralmente e apro su ok lato miglioro del piede apro senza dare fustigio al ginocchio questa è un'apertura per l'anca senti la posizione rispira trova il vostro spazio nella coscia spazio nel corpo quando ritorno centrale stacco la gamba e la trattengo ok sul principi torno indietro in flank andiamo in aretesi e scendiamo 3 2 1 3 2 1 up dog potete sempre tenere le ginocchia un po' più piegate per fare questi movimenti scendendo più quindi tieni avanti un valzo facciamo due valzi stendo le gambe piego le braccia uno due due stendo le gambe più possibile la schiena più possibile il po' ciò ciò che va su senti la l'allungamento spiro in giù inspiro in su completamente per favore torno al centro chair pose gambe ok portiamo peso sulle gambe destra no sinistra scusami forte sulle gambe destra incrocio il piede fissi un punto solo half chair il piede a martello sono un half chair metto le mani sulla coscia volendo posso proseguire mettere le mani a terra questo piede a destra si incastra sul braccio sinistro così sento proprio una maggior presa ok prova di appoggiare le mani a terra torni indietro senterai l'allungamento nella anche a destra poi ritorni in chair bello squat cambi lato su fissi un punto solo incroci le gambe sopra l'altra mani a tetto solo due seconda seconda fase terza fase mani giù il piedi sinistra che si agganta si incastra sulle braccia destra appoggiandovi un po' di peso sulle mani sentirai l'apertura maggiore dell'anca sinistra Torniamo indietro E troviamo l'equilibrio E torniamo in chair Sollevamo Questa volta andiamo in equilibrio squat Per arrivare fino a terra Ok, così Sollevo dei taloni Comincio a scendere In uno squat Portando i taloni in alto E sedere verso i taloni E vorrei arrivare Da seduti in questa posizione Ma ovviamente se vado giù Di botta, di botto Mi potrebbe sentire male sul coccige Bassi i taloni Curvi la schiena E piano piano E puoi anche utilizzare le mani Se volete per addolcire L'arrivo del coccige a terra Scendiamo giù E da qui Trascendete la testa Per i miei amici che soffrono Delle diastasi Portiamo un tappe giù Per le ginocchia Abdominali tesi E sto concentrando La mia ombelica Verso la parete Della schiena Più che l'abdomena Proprio la parete lombare E tiro dentro Ancora per quattro Ancora per tre Ancora per due Ancora per uno Lascia le gambe giù Adesso Tiri giù la pancia Tiri giù la pancia Come se stessi provando E lasciare un'impronta Della tua zona lombare A terra Ancora per quattro Ancora per tre Ancora per due Ancora per uno Portate le ginocchia su Torniamo su In half boat In half boat Ok? E possiamo ritornare in half boat E andiamo in estensione E torniamo su Per dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Scendete giù Andate su un fianco Pianco destro Braccio sinistro Sopra la testa E una strana sensazione Sulla mano E sul braccio sinistro Perché È una posizione Di solito Che non usiamo Però fortifica Pianco Andiamo a scoprire Zone Che di solito Non attiviamo Con Un allenamento Canonico La tratteniamo Ancora per Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Scendi giù Piedi giù Sollevo in Ponte Respira Mani sul vostro tappeto Tiri fuori con le mani Portando le scapole Sotto di voi Schiena in su Scendo giù Ginocchio destra Sopra la sinistra Facciamo la dolce spalla Twist Se ci scrocchia la schiena Non è solo che è positivo Cambiamo Dall'altra parte Respira 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 Tornate con le ginocchia Di vari capelli Insieme Una mano sulla pancia Lo soffetto Solo per rilassare Per un paio di Secondi Lascia che la stanchezza Del lavoro L'impegno La sfida Non so a che punto Stai con la tua Percorso Ma ricordate Sabe che siamo Essere dinamici Un costante cambiamento E ogni cosa Ogni problema Ogni ostacolo Ogni Diciamo Piccola prova Che ci manda fuori Nostra zona di comfort E solo che è positivo Perché ci permette Di crescere In un modo o in altro Psicologicamente Caraccar Caraccar Caraccarialmente Sicuramente l'ho detto Sbagliato Ma avete capito E quali che si stava dicendo Professionalmente Vi voglio bene Grazie moltissimo A Puttrick Per aver Diciamo Sostruito Questo live Per voi Molto Del solito Puttrick È un prodotto Pazzesco Energia Al vino E si spende Esistemente Le stane Quando non avete L'energia Di allenarvi Basta Nel mio giurito Di questa Cietto 15-30 minuti Prima del allenamento E vi garantisco Un'energia Bomba Non prenderli Troppo tardi Da sera Mi raccomando Perché potrebbero Influire Sulla vostra Qualità del sonno Ma è un pomeriggio O in mattina Se mi servono Screens di energia Energy Aminos È il vostro migliore Amico E l'altra cosa Ricordate Utilizzare Il mio codice Sconto Quando siete Durante la fase Di check out Jill Mio nome Y Con YouTube Jill Y Potete avere Rispondo Su tutti i tuoi Agusti Baci da regina Passate una giornata Fantastica Ci vedremo Presto Sempre qua Con i miei social Ciao Ciao